In compagnia di Piero Rambuschi, neoassessore al turismo e ambiente, oltre ad avere alcune altre deleghe, una in particolare quelle delle frazioni, che lei come presidente anche del gruppo per il cambiamento, visto che ci conosciamo da molti anni, mi ha sempre parlato di avere dei rappresentanti e di seguire le frazioni, per cui giustamente oggi ha anche questa delega che a lei ci teneva molto nella sua lunga carriera politica. Sicuramente una soddisfazione per uno che ha fatto tanti anni di politica, per cui arrivare alla carica di assessore. Cosa si aspetta in questi cinque anni? La domanda è ben fatta perché mi parla di questi cinque anni. Se mi avesse fatto la domanda cosa intendo fare attualmente, è un po' difficile perché la macchina bisogna metterla in moto. Anche se in questi giorni, in questi pochi giorni, che sono assessore turismo e ambienti, in particolar modo, come dice lei, una delle deleghe, anche quelle frazioni, eccetera, eccetera, Io ho le idee abbastanza chiare, ma però in corso d'opera sicuramente verranno altre novità e quindi approfondirò le novità che sorgeranno in un prossimo futuro. Oggi come oggi, io posso dire che per quanto riguarda il turismo, il mio obiettivo principale è quello di portare i turisti di Bibione e Caorle attraverso il fiume Lemane, quindi le vie d'acqua, a portarli in centro a Porto Ruaro. Questo è sempre stato il mio sogno, che io sono convinto, con la mia determinazione, che riuscirò e quindi sarò particolarmente felice quel giorno che arriverà la prima barca con i turisti di queste località. Per quanto riguarda le altre deleghe, io le sto seguendo, ma sto, come dire, facendo i primi passi e più in futuro sarò nel dettaglio. Oggi come oggi, io sto approfondendo il turismo.